Le cause le possiamo indagare, sono svariate, molte anche indipendenti da quello che il Comune o comunque le varie autorità e istituzioni cittadine possono fare. Crediamo però che ci siano alcune azioni strategiche da portare avanti. Così l'assessore al commercio del Comune di Pistoia, Gabriele Sguegli, ha analizzato lo stato del settore nel centro città. In questo inizio anno, segnato dalla chiusura di alcune storiche attività della ristorazione e non solo. Una situazione che non vede Pistoia isolata, secondo un recente studio di Confcommercio, infatti, negli ultimi dieci anni in tutta Italia oltre 100.000 esercizi hanno terminato la loro attività. Tra le azioni da portare avanti ha sottolineato Sguegli a quella dei parcheggi, la mobilità e l'accessibilità al centro storico. Stiamo portando avanti per esempio con il progetto PNRR di riconnessione del centro storico che prevede piste pedonali ciclabili di connessione di tutto il nostro territorio che renderanno la città più attraversabile e più facile da visitare, con speriamo prima o poi un aiuto anche dalla nuova proprietà che ha acquisito l'area ex-breda e deve presentare un progetto in merito che prevede anche un grande parcheggio. Parallelamente l'azione dell'amministrazione comunale è poi legata all'organizzazione degli eventi. Crediamo che Pistoia debba dotarsi di 4-5 grandi asset che la promuovano sul nostro territorio. Penso a Pistoia Città del Natale, penso a un altro paraco in città. Sono manifestazioni su cui il lavoro è continuo e che ci portano primi buoni segnali. Al lavoro sulla promozione turistica si somma poi nel piano del Comune il tema delle funzioni pubbliche da riportare nel centro storico. È partito da pochissimo il progetto di riqualificazione, sempre PNRR, tutto il quartiere San Lorenzo, dove l'amministrazione intende portare quelle funzioni pubbliche che in passato abbiamo portato fuori dal centro storico e che sono fondamentali per alimentare la vivacità del nostro centro e la sua identità.